Musica Buongiorno da Alessandra Bucce e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola. Un bilancio della Puglia presentato insieme a tutti gli assessori della sua giunta. Una conferenza che tratti apparsa di commiato dalla nostra Regione. La partita dell'Ilva è lì ad ammonirci come una grande questione, io dico epocale, del pianeta intero. Oggi non è possibile pensare che si possa fare ricchezza economica sviluppando un inquinamento che porta alla morte e alla malattia nelle case e tra i bambini. Bisogna mettere al primo posto il diritto alla vita e alla salute. A partire da Taranto, a partire dalla Puglia e bisogna subordinatamente far crescere una leva di lavori e di economia che possa portare anche soddisfazione alle esigenze materiali. Presidente, sarà la sua ultima conferenza stampa di fine anno da Presidente della Regione Puglia? Madonna, queste sono sempre frasi che sollecitano sentimenti di spavento. Tra qualche ora diremo se con lo sforamento controllato del patto di stabilità siamo riusciti o meno a raggiungere l'obiettivo di spendere 500 milioni di euro in cantieri nel giro di tre mesi. Siamo vicini a quel 31 dicembre in cui vedremo quanta spesa comunitaria siamo riusciti a fare e per quello che mi riguarda io ho anche l'obiettivo del 31 di maggio, del target futuro della spesa comunitaria. Insomma, la mia ossessione si chiama Puglia. Il mio sogno, il mio amore si chiama Puglia. Prestiamo la politica cittadina. Si torna in aula Dalfino questo pomeriggio per l'approvazione dei debiti fuori bilancio, lasciati in sospeso prima delle vacanze natalizie, quando una maggioranza senza numeri ha causato lo scioglimento della seduta per mancanza del numero legale. Dubbi anche su questo pomeriggio in forza, infatti, la tenuta del Consiglio e il centrodestra già promette battaglia. Ora è cruciale, stiamo parlando delle primarie per i comitati organizzativi di PD e SEL, pronte le regole in vista dell'appuntamento con le urne che decideranno del 30 dicembre prossimo, che decideranno i candidati parlamentari per le politiche del 2013. Sentiamo. Mancano tre giorni al 30 dicembre, data storica per la politica di centro-sinistra che per la prima volta ha deciso di affidare alle primarie la scelta dei futuri candidati parlamentari per le politiche del 2013. Una scelta che sana la ferita di una legge elettorale invariata, comitati di PD e SEL a lavoro per questo rush finale dalle tante incognite, una su tutte e l'affluenza alle urne. Sarà un'impresa non da poco considerato il periodo. Saranno primarie di coalizione, i democratici concorrono con liste su base provinciale e regionale invece per Sinistra e Libertà. Potranno votare tutti gli elettori registrati alle primarie del 25 novembre, ma anche gli iscritti a PD e SEL. Il seggio sarà unico per entrambi i partiti, si potranno esprimere due preferenze, una per un uomo e l'altra per la donna. Novità anche per chi ha votato fuorisede a novembre e ora si trova nel proprio comune di residenza, come ci spiega Domenico De Santis del comitato primarie PD. Bisogna mandare una mail al comitato provinciale dove si è votato, che so, Roma è romachiocciolaitaliabenecomune.it oppure Torino è torinochiocciolaitaliabenecomune.it e poi loro saranno a comunicarci che praticamente si è votato il 25 a Roma e Torino e quindi oggi si potrà votare tranquillamente a Bari, a Foggia, a Brindisi. E se i candidati del PD registrano la più elevata percentuale di presenze femminili rispetto ad altre regioni, SEL è invece adottato per la composizione delle liste il rigido criterio dell'alternanza uomo-donna, come ha confermato Gaetano Cataldo del comitato primarie SEL. Noi abbiamo deciso di utilizzare questo meccanismo e la possibilità di scegliere una donna o un uomo, si concretizza nella possibilità di esprimere due preferenze. Non è possibile segnare due donne, non è possibile segnare due uomini. Sarà più eletto o più eletta, o meglio, il più suffragato o la più suffragata sarà nella lista degli eletti. E' tempo di bilanci anche per aeroporti di Puglia. Meno parole, più fatti, meno lamenti, più lavoro. Questo è l'augurio per il 2013 dell'amministratore unico di aeroporti di Puglia, Domenico Di Paola, che abbiamo intervistato. Sentiamo. Ingegner Di Paola è un anno difficile, però comunque l'aeroporto si è difeso e sta comunque volando tutto il sistema aeroportale pugliese. Allora che cosa augura ai cittadini pugliesi per questo Natale e per questo nuovo anno? Solo un buon sereno Natale, magari tra le mure di casa, perché non si sta male poi alla fin fine. E un buon 2013, sarà un anno in cui dovremo impegnarci tutti abbastanza. Un anno di nuove sfide per lei? Per me la sfida più importante è sempre la sfida quotidiana. Il resto, come dire, man mano che si determina lo affrontiamo. La sfida quotidiana è difficile perché la situazione generale non è buona. Spero che nel 2013 si faccia meno politica, nel senso meno parole e più lavoro. E più, diciamo, dobbiamo avvicinarci con i nostri comportamenti, i nostri consumi, di più alla situazione reale. Meno lamenti e più lavoro. Un resoconto difficile anche per l'Università di Bari. È un'università che dovrà fare i conti con i nuovi tagli, ma che regge con il numero di studenti iscritti. Sentiamo l'augurio del Rettore dell'Università di Bari, Corrado Petrocelli. Magnifico Rettore, stiamo per salutare. Il 2012 è stato un anno difficile e arriverà il 2013, che lo sarà altrettanto. L'Università deve fare i conti con ulteriori tagli. Il taglio del 2013 è insopportabile per tutto il sistema universitario, non solo per Bari. Non ce l'aspettavamo. Dispiace che sia stata varata una legge di stabilità che sembra una finanziaria della Prima Repubblica. Siamo disponibili a comprendere i sacrifici che sono necessari per il Paese. Ma nel momento in cui si accendono voci di finanziamento per esigenze più diverse, dai maestri di sci alle comunità montane, vengono trovati soldi per i policlinici universitari, solo delle università non statali. C'è un miliardo e 700 milioni per la TAV. Ci sono i fondi che vanno a rifinanziare le emissioni all'estero. Non si finanzia l'università, c'è qualche cosa che non va. Cioè o questo Paese si convince e traduce nei fatti il principio secondo il quale la formazione e la ricerca possono costituire il futuro per il Paese oppure è destinato al declino. Questo è bene che si sappia. Il tema dei giovani è sempre al centro della dialettica politica, non trova però riscontro negli atti pratici. Che futuro regaliamo ai giovani in questo momento? È un futuro pessimo se continua così. I giovani sono in difficoltà perché le famiglie sono in difficoltà. Calano le iscrizioni? Da noi no, ma questo non vuol dire niente. Noi quest'anno abbiamo avuto 13 mili matricolati come l'anno scorso. È un risultato enorme se si pensa che ci sono grandi università con un taglio di matricolazioni che arrivano all'8%. In questa prospettiva Pocorosea ci piace che ci sia ancora uno spiraglio per avere fiducia nel futuro e quindi con questo le chiedo i suoi auguri di buon Natale e di buon anno. Auguri a tutta la comunità naturalmente pugliese e barese però se mi è consentito auguri alla comunità universitaria con un grande ringraziamento perché i risultati che in questo clima di difficoltà abbiamo raggiunto li abbiamo raggiunti grazie al senso di sacrificio e di responsabilità dei nostri colleghi, docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti ai quali dico che garantiremo tutti i servizi e non aumenterò le tasse. E nonostante l'ordinanza antibotti del sindaco di Bari, numerosi sono i sequesti effettuati da polizia e carabinieri di materiale esplodente in possesso di cittadini comuni. Ce ne parla Cristina Ferrini. Più di 100 artifici pirotecnici fabbricati artigianalmente sono stati sequestrati dai carabinieri durante i controlli nella giornata di Santo Stefano. Si tratta di bombe del tipo candelotto di moderata potenzialità esplodente. Il materiale era in possesso di quattro persone che sono state denunciate a piede libero. Ammareggiato il sindaco emiliano che la notte di Natale ha dovuto fare i conti con un vero e proprio atto intimidatorio. L'esplosione di due petardi davanti alla sede provinciale del PD. Un vero e proprio avvertimento secondo gli investigatori probabilmente legato all'ordinanza che il primo cittadino aveva emanato un mese fa sul divieto di vendita e di utilizzazione dei botti. Ma quanto sia pericoloso per la vita umana fabbricare ed esplodere artifici pirotecnici ce lo spiega il capitano dei carabinieri Marco Alesi, comandante della compagnia Bari San Paolo. La pericolosità nella fabbricazione e anche nel far esplodere questo tipo di artifici pirotecnici è elevatissima. Infatti si raccomanda sempre né di acquistare questi artifici pirotecnici confezionati artigianalmente né tantomeno di farli utilizzare soprattutto ai più giovani perché si tratta di materiale che non è certificato e che quindi può essere molto instabile. In più durante le ore successive appunto alla notte del primo dell'anno di porre grandissima attenzione a tutti i residui di questi artifici pirotecnici che potrebbero essere trovati per strada inesplosi. L'attenzione deve essere massima perché il fatto che non siano esplosi immediatamente non significa assolutamente che non possano esplodere anche nelle ore successive per via di una combustione lenta della polvere pirica contenuta all'interno degli stessi. Nell'ultimo fine settimana i carabinieri hanno anche arrestato quattro persone tra cui uno stalker di 54 anni di Carbonara trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 18 cm, arma con la quale minacciava ripetutamente l'ex moglie. E' sequestrati anche una quarantina di grammi tra marijuana e hashish illegali a due cittadini extracomunitari. Per entrambi sono scattate le manette. E' stata consacrata dall'arcivescovo di Bari Monsignor Francesco Cacucci con la celebrazione di una messa alla chiesa itinerante del circhio Lidia Togni sul lungomare Vittorio Veneto. E' la prima volta in forma una nota del circo che un circo realizza una vera e propria chiesa dove da domani in poi ogni domenica sarà celebrata una messa aperta oltre che agli abitanti del villaggio del circo Togni anche a tutta la cittadinanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.